way a tutti spero di trovarvi da grande oggi vediamo come farci scoppiare le spalle le palle a spalla di cannone mi raccomando abbiamo come sempre sei tier non come sempre cambia ogni volta in realtà bolder tier che è quella più figa di tutte excellent decent mediocre table tier e punto di domanda punto di domanda che è la tier che in cui metteremo tutti gli esercizi peggiori questo è il terzo video abbiamo iniziato con la schiena siamo passati per il petto ora ci vediamo gli esercizi per le spalle come sempre aspetto qui sotto le vostre proposte per le future fear list vi state cercando un coach che vi guidi nel vostro percorso un mentore che vi supporti se volete migliorare la vostra composizione corporea e le vostre performance in palestra scrivetemi passate nel link in descrizione verrete rimandati a un modulo da compilare lo compilate mi date tutte le informazioni necessarie per programmare una videochiamata ci incontriamo un videochiamata possiamo approfondire quello che è la vostra situazione attuale da lì possiamo parlare per bene della strategia da attuare e quindi iniziare eventualmente una collaborazione assieme voglio riempire un altro posto ho fatto l'annuncio la settimana scorsa due sono già nati via quindi me ne rimane soltanto uno vi aspetto non tardate rock and roll ci vediamo dall'altra parte iniziamo con questi pike probably push up c'è qui il piccolo problema che la testa si mette in mezzo alle balle e che il piano di spinta non è proprio ideale per stimolare l'eltoide c'è da dire però che su un atleta particolarmente allenato particolarmente forte in questa posizione sicuramente risulta uno stimolo per niente da sottovalutare comunque c'è si va a rispettare quello che è il piano di lavoro esatto per il deltoide specialmente frontale se non si va ad aprire troppo la presa quindi potrebbe essere sicuramente un movimento decente anche se la stabilità non lo rende buono per tutti il regno di movimento non è il massimo e la richiesta di abilità per come ingresso all'esercizio è decisamente troppo elevata quindi non andrei sopra il decente per non scendere sul mediocre perché poi sul mediocre possiamo tranquillamente con aspetta un attimo ciottolo sassolino non comprendo chi ha fatto questa tier cosa intendesse con sassolino però probabilmente questo piegamento unilaterale con deficit solo unilaterale non lo comprendo lo metto tranquillamente nel sassolino anzi punto di domanda perché essenzialmente quello che mi quello che mi pongo il quesito che mi pongo è proprio questi sono invece dei piegamenti su con i piedi rialzati e sono ottimi per il petto porzione clavicolare nello specifico possono dare uno stimolo sul deltoide frontale ma sicuramente non è un esercizio per il deltoide frontale siamo d'accordo qui abbiamo invece degli end stand push up che se fatti bene magari mettendo le mani invece che su due dischi in questo modo magari su due rialzi anche superiori e magari anche avendo modo di impostarsi bene quindi fare in modo che l'equilibrio non risulti un fattore limitante questi possono in realtà essere un esercizio molto molto fico da tenere in considerazione quando ci si approccia per l'appunto allenamento delle spalle immaginate di togliere questo cuscinetto di mettere di mettersi elevati magari sopra due box per fare squat quindi avere la possibilità di scendere tantissimo di stretciare tantissimo il muscolo quindi portarsi a casa un tantissimo range di movimento senza avere il problema che sia nella overhead press di dover muovere la testa perché c'è il bilanciere che se no ce la sfascia portaci a casa un ottimo range di movimento un ottimo stretch sotto tensione e un'ottima fase concentrica sicuramente un esercizio estremamente complesso e anche a livello di stabilità potrebbe non essere ideale però se si ha la forza per farsi quattro cinque sei ripetizioni e quindi si cerca di sovraccaricarlo nel tempo sicuramente può risultare un'arma molto molto interessante da sfruttare discorso simile ma diverso per la overhead press che ha problemi diversi che non me lo fanno mettere sul boulder tier list e qual è il problema principale della overhead press la stabilità e il fatto che il bilanciere non è particolarmente comodo perché dobbiamo muoverci in base al suo tragitto e la stabilità possiamo tranquillamente risolvere il problema di stabilità sedendoci quindi se io qua mi trovo una sited overhead press non c'è la sited overhead press quindi mi non posso fare altro che metterla con i manubri i'm sorry qui abbiamo una viking press estremamente figa e qui c'è il fattore stabilità viene annullato perché comunque ci muoviamo grazie a una leva che fa su e giù quindi il movimento è guidato non abbiamo il problema del bilanciere che ci decapita se non ci spostiamo la testa più che decapita ci sfascia la testa in realtà il vero school crusher potrebbe essere la overhead press se ci pensiamo range di movimento particolarmente utile interessante ci portiamo a casa quindi il meglio di entrambi i mondi che potrebbero darci l'endstand push up è una overhead press quindi molto molto interessante come movimento la viking come spinta verticale questa immagino sia una push press vedo il caricamento immagino che voglia spingere verso l'alto e non direi che è un ottimo esercizio per le spalle più che altro perché l'esatto momento in cui le spalle possono lavorare che questo la porzione più difficile per le spalle per su cui lavorare viene bypassata dal salto e quindi alla fine è un ottimo movimento di estensione dei tricipiti più che di flessione della spalla quindi lo metterei su un decente ma vediamo poi se il caso di spostarlo da qui qui abbiamo una land mind press che se gestita per bene sicuramente molto molto interessante lo metterei sul excellent tier list qui comunque abbiamo tutte le peculiarità che possiamo portarci a casa da una viking press il movimento è guidato a seconda di come posizioniamo il busto posizioniamo il busto in relazione al bilanciere possiamo portare lo stimolo maggiormente sul clavicolare o sul deltoide frontale quindi sicuramente molto molto interessante da considerare potrebbe essere un pò in ds un pò un dito nel sederino farla posizionarsi nella posizione corretta quando si diventa particolarmente forti ma magari se si parte se si fa in modo di mettere per esempio il pin le sicurezze del rack in maniera tale da potercelo poggiare sopra per il setup e quindi prenderlo da una posizione rialzata potre si potrebbe risolvere il problema in maniera piuttosto efficiente qui abbiamo delle spinte sopra la testa con la trap bar anche questo niente male va a portare a farci portare a casa il il lato positivo della della dell'endstand push up escludendo il problema del bilanciere che cdc spacca la testa dell'overhead press e la presa è neutra quindi meglio a livello delle spalle potrebbe essere per tanti una buona proposta e comunque la presa neutra permette di non enfatizzare la rotazione dell'omero e quindi far lavorare maggiormente il deltoide frontale e io tipicamente le spinte sul piano verticale le faccio proprio idealizzandole come movimento per il deltoide frontale queste sono delle croci manubri su panca decente c'è sempre questo problema che si ha una una marea di carico non sia il massimo accorciamento quindi massimo accorciamento vuol dire che il muscolo è più debole e in più si ha la leva più lunga nel momento in cui il il muscolo è più debole quindi si ci si porta sempre a casa questo stimolo poco efficiente poi su un muscolo così piccolo come il deltoide posteriore avere una difficoltà così aggiuntiva e poca stabilità eccetera eccetera per è molto molto facile indirizzare lo stimolo indirizzare la tensione sui muscoli che non vorremmo far lavorare vedi tutti quelli più forti della schiena superiore quindi il deltoide posteriore è l'ultimo in realtà che riceve lo stimolo e che quindi riesce a crescere da movimenti del genere alzate frontali decenti mi piacerebbe probabilmente con una presa così doppia prona lo stimolo comunque si può si può sviluppare sia sul deltoide frontale sia su quello laterale quindi potrebbe essere interessante decente tipicamente non faccio fare del lavoro diretto per il deltoide frontale in questo modo però ci sono dei casi in cui potrebbe essere interessante lo stimolo indotto da contrazioni isometriche probabilmente il più irrilevante tra i tre tipi di contrazione concentrica isometrica ed eccentrica quindi queste mantenute frontali non mi piace immagino siano mantenute frontali non lo so c'è un modo per capirlo perché se sono dei plate rise quindi essenzialmente il discorso identico soltanto che essendo una presa neutra invece che prona il l'omero sarà leggermente che sarà ruotato e quindi lo stimolo se ne andrà leggermente più nel deltoide frontale lo stesso identico riscorso lo possiamo applicare con i manubri sono tutti tre decenti a seconda del caso si possono inserire a seconda dell'obiettivo si possono inserire tipicamente non li metto in una scheda comune esercizi così tanto specifici per il deltoide frontale le overhead press con bilanciere dietro la testa carino ma mi sento di metterlo sulla tier del mediocre non tanto perché è pericoloso come si pensa ma molto semplicemente perché questa a parte che questa extra rotazione così estremizzata dell'omero non tutti riescono a raggiungerla e questa è la prima cosa quindi il movimento già di per sé viene limitato dalla mobilità dell'individuo in più in questa posizione così extra ruotata in realtà la spinta che avviene sopra la testa porta tensione sul deltoide frontale perché messo in questa posizione naturalmente viene esposto maggiormente al lavoro sto guardando lì perché vedo mi vedo nella camera non voglio uscire dalla camera messo in questo modo il deltoide frontale viene esposto maggiormente al lavoro però come notiamo compie molto meno tragitto in termini di massimo allungamento e massimo accorciamento rispetto a quello che potrebbe compiere qua qua per esempio ha già un allungamento molto superiore rispetto a quello che potrebbe ottenere qua dietro e quindi questo allungamento maggiore sicuramente permette di compiere fargli compiere un movimento superiore sotto carico e quindi alla fine dei conti lo stimolo indotto risulta essere più interessante quindi è questa la mia idea sulla pressa dietro la testa qui abbiamo un'altra pressa con le braccia larghe lo metterei tranquillamente sul mediocre qui lo stesso discorso è che più allarga la presa e più andiamo a togliere lo stimolo dai fasci della spalla comunque l'ottimizzazione dello stimolo dai fasci della spalla e più lo indirizziamo ci indirizziamo verso un setup poco corretto atto più allo spostare più carico che al effettivo stimolare i tessuti quindi dipende possiamo dire anche effettivamente dipende dall'obiettivo il nostro obiettivo è sollevare più carico sicuramente allargare la presa proprio come nella panca piena potrebbe risultare in un anzi sicuramente risulterà in un rom ridotto e quindi potrebbe risultare in un sollevamento di più carico quindi mettiamolo in decente per valutare effettivamente per lasciare un po' di spazio anche a quello che è l'obiettivo del singolo individuo qui abbiamo immagino delle extra rotazioni che non lasciano il tempo che trovano tranquillamente in pebble questo penso sia una shoulder press al macchinario eccellente spinte unilaterali sopra la testa con questa posizione dubbia cos'è questo? una tirata con l'elastico? poi con questa rotazione questo ragazzo non ha capito qual è il funzionamento della spalla se noi facciamo una tirata e ruotiamo allo stesso tempo il busto non stiamo facendo neanche lavorare la spalla qui abbiamo le stesse le extra rotazioni ma con busto inclinato immagino non mi piacciono le extra rotazioni fatte in questo modo per il semplice fatto che è più un lavoro di isometria che di reale contrazione le tirate alla faccia invece le reputo più le reputo decenti dipende dall'obiettivo anche qua mi piacciono più come riscaldamento che come vero e proprio metodo per stimolare il deltoide posteriore se vogliamo farci delle tirate alla faccia le farei più in stile upright row quindi il cavo proviene dal basso e non dall'alto e quindi provenendo dal basso abbiamo la possibilità di dare più enfasi sull'extra rotazione di dare più enfasi sulla abduzione dell'omero a seconda di quanto è lontano il cavo da noi possiamo o far lavorare se proprio dritto sotto di noi o possiamo far lavorare maggiormente il deltoide laterale oppure se lo mettiamo più lontano da noi il cavo possiamo far lavorare maggiormente la porzione posteriore del deltoide come potremmo realizzare su una tirata alla faccia più classica le trazioni per il deltoide direi mediocre non dico scarsissimo però mediocre potrebbe risultare un po' di stimolo sul deltoide posteriore sicuramente sì ma non tanto rilevante pugni all'aria no grazie overhead press con manubri in piedi è difficile settarsi quando si iniziano a usare dei carichi interessanti risulta praticamente impossibile mettersi in questa posizione senza perdere energia inutilmente upright row col bilanciere eccellente mi piace un sacco dobbiamo semplicemente discostarci dalla paura che di romperci le spalle perché è infondata ho fatto anche un video un po' di tempo fa in cui ne parlo criticando le argomentazioni di Jeff Cavalier qui abbiamo delle aperture sulla sled mi piacciono decenti il discorso qui è più o meno quello che potremmo fare con delle tirate alla faccia qui abbiamo la pack deck inversa sicuramente eccellente per via della maggiore stabilità naturalmente il macchinario deve essere più ben fatto diciamo qui abbiamo delle alzate a y su panca oppure alzate laterali su panca decente non riesco a capire sinceramente quale potrebbe essere se sono alzate laterali su panca vanno benissimo con un rom anche così accentuato però comunque sappiamo che mettiamole qua dai sono sicuramente eccellenti ma sappiamo bene che c'è una modalità migliore per farle abbiamo delle alzate al TRX dove ho messo la sled che è la stessa identica cosa qua invece le alzate a y al cavo sicuramente molto più interessanti infatti è quello che volevo dire prima grazie al cavo abbiamo la possibilità di gestire molto molto meglio la tensione e quindi porterci a casa uno stimolo molto molto più omogeneo sulla panca invece risultano più eccellenti non ideali questo la rope battle rope cose sicuramente provoca un sacco di bruciore un sacco di accumulo di metaboliti ma come possiamo immaginare questo movimento va a farti muovere in un range di movimento estremamente corto derivato più da pulsazioni derivato più sull'allenamento dalla resistenza del tessuto più che sulla sua ipertrofizzazione sicuramente risulterà in un incremento del volume ma sicuramente allo stesso modo non è il modo migliore per allenare un muscolo quello di fargli accumulare così tanto acido in così poco range di movimento non mi piace particolarmente il nuoto allo stesso modo sicuramente anche qui lo stimolo arriverà ma non è indotto da un tensionamento efficiente è più una risultante di quello che si va a fare panca piana no facciamo pebble perché non è proprio a livello di questi panca inclinata ma perché mi devono mettere così in difficoltà dipende dall'inclinazione con questa inclinazione anzi con questa presa con questa inclinazione va su pebble mentre con una presa un pelo più stretta non così tanto stretta ipotizziamo anche che qua ci sia un'inclinazione superiore magari lo stimolo se ne va sicuramente lo stimolo se ne va maggiormente sul deltoide questa immagino sia una Arnold press in realtà io lo metterei più sul mediocre perché possiamo tranquillamente farci una shoulder press con i manubri non ci portiamo a casa quella tensione isometrica di fare questo movimento totalmente inutile che è pro gravità e che non risulta effettivamente in un movimento efficiente per portarsi a casa uno stimolo efficiente facciamo la petizione sostituiamo l'Arnold press con una shoulder press classica e ci portiamo a casa uno stimolo più efficiente qui abbiamo un'altra shoulder press nel dubbio la metto qui mi sembra che faccia un movimento convergente e mi sembra che il movimento è superiore però non so esattamente quale sia a parte il fatto che uno lo sta facendo meglio dell'altro Viking press decente però è un po' troppo invadente come bilanciere da utilizzare Sandow che fa queste spinte con quel coso gigante mediocre perché questo è più un movimento comprensivo di tutto il corpo più che effettivamente le spalle se ci pensiamo lui praticamente partiva da questa posizione e faceva una roba del genere quindi se vogliamo l'angolo dell'omero rispetto al busto rimane praticamente identico e non c'è alcun tipo di stimolo a livello del deltoide sì sicuramente qualcosa va però non è ideale qui abbiamo una clock of press che la vedo molto molto simile a livello discorsivo della spinta dietro la testa forse la differenza è che c'è addirittura una spinta di gamba quindi è anche un pelo peggio qui abbiamo degli upright row vedo che sta lavorando anche il quadricipite quindi forse un push upright row ah forse il il clean quindi sì interessante ma c'è sempre quella quella dinamicità del movimento che non mi piace particolarmente questo stesso discorso che facevamo con Sandow anche se c'è la kettlebell comunque risulta in un movimento un po' troppo multiarticolare queste aperture lì dietro sono carine ma meh nel senso se non si ha l'attesa della disposizione ok alzate laterale al macchinario mega non l'ho mai provato questo macchinario sinceramente non so quale sia a livello di stimolo penso sia semplicemente una roba di attrezzato di marchio di azienda che lo produce e quindi di efficienza della leva che va a produrre però alla fine il risultato immagino sia molto molto simile a livello di rotazione dell'omero siamo in una posizione simile soltanto che qua lo stimolo il carico la forza è applicata sul gomito sulla zona del gomito mentre qua la forza è applicata sulla zona della mano e quindi la leva sarà maggiore quando arriviamo in massima quando abduciamo mollomero e quindi qui abbiamo sicuramente la possibilità di alzare meno carico però immagino che siano fighe allo stesso modo e mi permetto di ipotizzare che possono essere messe sulla boulder tier entrambe fatemi sapere se le avete provate che cosa ne pensate della mia argomentazione qui abbiamo una Zidrunas Press che fa perdere un sacco di stabilità e per questo non mi piace particolarmente per chi non lo sapesse la Zidrunas Press è semplicemente una overhead press col culo a terra e che quindi fa ingaggiare tantissimo il core per mantenere il posizionamento naturalmente questo ingaggiamento del core fa togliere un sacco di stabilità scrollate non le metterei per le spalle farmer walk anche questi sicuramente fa lavorare la spalla però non le metterei tra il lavoro per la spalla qui abbiamo invece dei farmer walk con il carico sopra la testa che potrebbe essere più interessante ma comunque la risultante è sempre che la forza ti va semplicemente a incastrare di più la testa dell'omero nella scapola quindi qua c'è più un lavoro di trapezio sicuramente per tenere la scapola il i-deep su decente il-deep è un movimento tanto figo da poterlo mettere anche nel decente anche per le spalle e sono indeciso se mettere sull'eccellente addirittura ma mettiamolo sul decente così non non facciamo scontenti troppe troppe persone forse sì dai non è eccellente per le spalle qui abbiamo ring push up non li metterei li metterei per il petto stesso discorso per quanto riguarda ring push up con i piedi rialzati magari possiamo rispettare il principio di cui abbiamo parlato per la panca inclinata quindi metterli più in alto questo non c'è bisogno di discuterlo qua abbiamo una contrazione più isometrica che altro non mi interessa particolarmente questo mi piace un sacco per l'articolazione della spalla più che lo stimolo a livello ipertrofico quindi non voglio andare oltre il mediocre a livello di ipertrofia qui non so cosa abbiamo forse delle alzate su su panca inclinata decente questo non ho idea di che cazzo sia cosa sta facendo non lo so questo non lo capisco ah forse sono alzate a 45 gradi quindi al manubrio qua e si fa un'alzata verso qui carino decente mi fa impazzire alzate laterali più classiche su eccellente ma sappiamo che non è ideale mentre questo sicuramente risulta più figo anche questo qua la curva viene sicuramente migliorata però non c'è paragone con quello che ci può regalare un cavo idealmente avere il cavo anche su una carrucola che può salire e quindi nel momento in cui siamo in massimo allungamento abbiamo il cavo che praticamente parallelo al pavimento risulta ancora meglio rispetto a come è posizionato in questa figura Jared l'urases eccellenti mi piacciono un sacco e questo credo che sia il risultato della tier list per le spalle fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere come l'avreste ordinata voi questo video è uscito giganterrimo non so in quanti siamo arrivati fino a questo punto comunque complimenti ai più coraggiosi che ce l'hanno fatta io come sempre ringrazio tutti quelli che stanno continuando a sostenere il canale che comunque se l'avete notato è privo di qualsiasi tipo di pubblicità l'unico modo che ho per sostenere il lavoro nel canale è Prozis Kaizen Atletica codice sconto Mitch per avere il 10% di sconto più omaggi in entrambi i siti come vi ho detto all'introduzione se volete un coach un mentor che vi segua nel vostro percorso di costruzione muscolare ricomposizione corporea e aumento della performance non dovete fare altro che cliccare nel link in descrizione io per ora ho finito vi avevo una fantastica giornata e serata e ciao grazie 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 a tutti